Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, trovate tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui di nuovo per parlarvi di un caso parecchio delicato, quindi come al solito anche per questo video non sforzatevi se sentite che non vi fa stare bene. Detto questo iniziamo immediatamente a parlare dei fatti. Sono le 10 di mattina del 16 marzo 2010, quando Caterini Mattas giunge all'ospedale Gaslini, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di tipo pediatrico situato a Genova, nel quartiere di Quarto, che è di fatto a pochi metri dal mare. Quella donna, Caterini, stringe in braccio suo figlio, Alessandro, il piccolino, ha appena nove mesi. Caterini quindi si precipita all'interno dell'ospedale e in modo alquanto coincitato, ferma dell'infermiere dicendo, aiutatemi, vi prego, fate qualcosa per il mio bambino. Il piccolo è a volte in una copertina. L'infermiera prende subito Alessandro, vuole visitarlo immediatamente e ben presto a lei si unisce una collega. Scoprono il bambino e vedono che sulla fronte, all'altezza dell'attaccatura dei capelli, ha un segno rosso. Lì per lì le infermiere pensano ad una malattia. Sono abituate a vedere bambini che arrivano in condizioni critiche per meningiti e infatti le infermiere ipotizzano immediatamente che Alessandro possa avere una meningite. Caterini dice alle infermiere che il bambino non è caduto, le infermiere dunque si fidano della donna e iniziano l'attività rianimatoria. Toccando il piccolo si rendono immediatamente conto che è freddo. Una dottoressa prende il capo del piccolo in modo da estenderlo per effettuale un'intubazione tracheale e così facendo, ahimè, sente che la volta cranica è fratturata. La testa ha un grosso ematoma molle. A questo punto i medici tolgono il pannolino al piccolo e si rendono conto che all'altezza dell'anca ha una ferita rotonda, simile a una bruciatura. Sembra, in realtà, una bruciatura da sigaretta. Notano un altro segno simile sul padiglione auricolare sinistro. È pieno di abrasioni, sia su arti superiori che inferiori. Infine, sul suo piedino è presente un segno circolare. Pare sia un morso. A questo punto i medici non possono far altro che dichiarare il decesso di Alessandro. Lo coprono dunque con un lenzuolino e poi si dirigono da sua madre per darle la terribile notizia. Caterini però non ascolta l'infermiere. Si precipita nella stanza in cui c'è suo figlio. Lo chiama, lo scuote, gli dice Dai Ale, svegliati, che andiamo? Perché non ti svegli Ale? Perché non mi rispondi? Che t'hanno fatto? Le infermiere si avvicinano a quella donna addolorata, a quella madre addolorata. La allontanano un pochino dal bambino e le sussurrano Signora, non c'è più. Mi dispiace, ma non c'è più. Caterini a questo punto piange, urla. Accusa le infermiere. Dice che sicuramente le stanno mentendo. Le infermiere non sanno che fare davanti al dolore di quella madre. C'è però un fatto. Caterini non è andata in ospedale da sola. Bensì è stata accompagnata da Antonio Rasero, un suo amico. I due sostengono di non sapere cosa si è successo al piccolo, ma al contempo dicono che il bambino ha trascorso con loro l'intera notte nel quartiere Nervi, a Genova, a casa di Antonio Rasero. A questo punto Caterini e Antonio vengono portati in questura, mentre la polizia scientifica si reca nel luogo in cui Alessandro ha trascorso i suoi ultimi momenti di vita. La scientifica si reca a casa di Antonio, si tratta di un monolocale, che presenta una zona giorno e una zona notte. Entrando in casa la scientifica nota il letto, che è completamente disfatto, mentre tutta la casa è visibilmente in disordine. Ci sono tracce di polvere e mozziconi di sigaretta ovunque, anche per terra. All'interno del cassetto del comodino posto alla destra del letto vengono trovati un pacchetto di sigarette camel vuoto, una banconota da 5 euro arrotolata e una cartina da sigarette ancora da fare. Inoltre ad occhio è evidente che all'interno di quel cassetto c'è anche un po' di polvere bianca sparsa. Ovviamente quella è Coca Cola e non mi sto riferendo alla bevanda. Nel cassetto del mobile con sopra il televisore vengono ritrovati parecchi DVD di natura intima e all'interno di una delle custodie di questi DVD viene ritrovata altrettanta polverina bianca. Questo è il luogo in cui ha trovato la fine il piccolo Alessandro. E le uniche persone che sono state con lui per tutta la notte per loro stessa missione sono Caterini e Antonio, nessun altro. Caterini è di origine greca ma cresce nel quartiere popolare di San Fruttuoso a Genova. I suoi genitori si separano quando è ancora una bambina, è iscritta alla facoltà di biologia, lavora come croupier in un circolo di poker e ogni tanto fa la modella. Nel 2008 incontra Rosario Granvillano, un uomo sposato con cui mette al mondo Alessandro. L'uomo a processo sostiene che Caterini voleva avere a tutti i costi un figlio da lui. Inizialmente quindi usavano le protezioni, successivamente però Caterini gli aveva detto che aveva iniziato ad assumere la pillola. Ovviamente questa situazione non può essere verificata. Lo stesso Rosario a processo dice che non ha idea se Caterini assume se o meno la pillola, in quanto non si è mai messo a controllarla. La difesa sostiene che Caterini a processo abbia ingannato Rosario. Gli ha mentito dicendo che prendeva la pillola perché voleva avere un figlio da lui a tutti i costi. Però Caterini, nonostante la grande voglia di avere un bambino, si era fatta convincere da Rosario ad abortire. Il punto è che Rosario ci aveva messo un po' troppo tempo per convincerla. Tanto che quando Caterini si era recata in ospedale per effettuare un'ecografia, la ginecologa le aveva detto che ormai il bambino era quasi tutto formato. Riusciva anche a capire il sesso del piccolo. È un maschio. Rosario Granvillano però ha una famiglia, dunque il bambino non lo riconosce. Dopo la nascita di Alessandro, la relazione tra Caterini e Rosario prosegue per ulteriori cinque mesi, ma è molto burrascosa. I due litigano in continuazione. In quanto Caterini chiede più volte a Rosario di lasciare sua moglie per poter vivere la loro relazione alla luce del sole. Rosario però non lascia sua moglie. E la loro relazione termina il 23 dicembre del 2009. Dopo che Caterini chiama la moglie di Rosario dicendole di essere l'amante di suo marito. Rosario inoltre talvolta è aggressivo con Caterini, ma quanto dice al processo? Ha le sue ragioni. Infatti quando si erano conosciuti Caterini gli aveva detto che sporadicamente usava Coca-Cola. E a dirla tutta lui inizialmente importava anche poco. Poi però quel tempo Rosario si era affezionato alla donna. E questo suo vizietto gli dava profondamente fastidio. Ecco perché aveva iniziato ad essere aggressivo. Gli chiedeva in continuazione di smettere di darci un taglio, cosa che Caterini non aveva mai fatto. Perché Caterini ormai era dipendente. Lo era già. Al termine della relazione con Rosario Granvillano, che è il padre biologico di Alessandro, Caterini rincomincia ad uscire, rincomincia a frequentare degli uomini. E accintua in maniera massiccia il consumo della sostanza. Caterini dopo questa delusione profonda inizia a vivere una vita senza freni. E a febbraio inizia una relazione con un uomo di nome Bruno Indovino. Che va a vivere con lei e Alessandro. Dovete sapere che a Bruno gli hanno tolto la patente perché gli hanno trovato nel sangue tracce di Coca-Cola. Notate quanto ritorna questa sostanza in questa storia? Nonostante ciò Bruno adorava Alessandro. Avrebbe addirittura voluto costruire una vita con Caterini. E in effetti anche quest'ultima si era affezionata all'uomo. Bruno stava con Alessandro, giocava con lui. Era come un padre per quel bambino. Ma in realtà Caterini contemporaneamente aveva iniziato anche a frequentare Antonio Rasero. Un ragazzo di 30 anni che di professione fa l'agente marittimo. Separato con due figli che condivideva con Caterini una sola passione. Il consumo della sostanza. Antonio Rasero infatti aveva terminato la relazione con la sua ex compagna. Ossia con la madre delle sue figlie. Nel marzo del 2009 proprio perché la donna lo aveva beccato. Aveva scoperto che faceva uso di Coca-Cola. In realtà se ne era accorta quasi un anno prima. Per la precisione nell'agosto del 2008. Aveva chiesto in ogni modo ad Antonio di smettere. E quest'ultimo ogni volta prometteva di smettere. Ma non ci riusciva mai. Ecco perché il loro rapporto era arrivato al capolinea. Antonio Rasero e Caterini si incontrano per la prima volta il 20 febbraio del 2010. Si conoscono a casa di un noto personaggio dello spettacolo che dava festini a base di Coca-Cola e altre sostanze. Ossia Paolo Calissano. Un paio di giorni dopo Caterini si reca nel quartiere Nervi. A Genova. A casa di Antonio. La donna rimane lì per tutta la notte. Ma a quanto dice non hanno rapporti completi. Antonio in tribunale dice che da parte sua non c'è mai stato alcun interesse sentimentale. Il piccolo Alessandro perde la vita in casa di Antonio Rasero. Nel quartiere Nervi. A Genova. E a portarlo a casa sua è stata chiaramente Caterini. La notte tra il 15 e il 16 marzo 2010. A questo punto il processo ricostruisce cosa abbiano fatto madre e figlio a partire dal pomeriggio del 15 marzo 2010. Nel pomeriggio del 15 marzo Caterini è con Bruno Indovino. E insieme si recano a Chiavari dove Bruno ha un appuntamento con il suo avvocato. Quando giungono a Chiavari però è tardi. E l'avvocato di Bruno non c'è più. Se n'è già andato a casa. Quindi Bruno, Caterini e il piccolo Alessandro tornano a Rapallo. A casa di Caterini. La stessa sera Bruno e il piccolo Alessandro restano a casa. Mentre Caterini esce. Dice a Bruno che deve parlare con un uomo di nome Antonio Rasero. In quanto deve porre fine definitivamente alla loro relazione sentimentale. A quanto pare Bruno non si scompone per questa notizia. Però non gli piace affatto che Caterini esca lasciando il bambino solo con lui. Ma d'altronde Bruno si rende conto che è come se fosse suo padre. Lo culla, gli fa il bagnetto, gli dà da mangiare. Caterini dunque si vede con Antonio ma non di certo per chiudere la loro relazione. Assolutamente no. In realtà insieme partono per andare a Genova. I due non fanno neanche il tempo a partire. Il telefono di Caterini squilla. E a chiamarla è Bruno. C'è un problema? Alessandro piange disperato. Non c'è modo per farlo smettere. Forse gli sta spuntando un dentino. Quindi Bruno dice a Caterini di andare a prendersi suo figlio, di prendersi cura di lui. Caterini a questo punto dice ad Antonio che prima di partire per Genova e prima di recuperare Alessandro vuole far uso della sostanza. Cosa che fa? Lei sostiene che l'abbiano usata entrambi. Lui sostiene che in quel momento non l'ha usata, non l'ha assunta. Durante il processo Antonio dice chiaramente che non c'era in previsione l'idea di portare Alessandro a Genova. Alessandro sarebbe dovuto rimanere a rapallo. Ma Caterini non ha potuto fare a meno di recuperare Alessandro per portarlo con sé. In quanto Bruno Indovino aveva consumato circa 3 grammi di sostanza e non era in grado di occuparsi di quel bambino. Questo è ciò che dice Antonio. Caterini invece sostiene di aver portato il piccolo Alessandro a Genova su richiesta di Antonio. Lo voleva vedere, voleva stare un po' con lui. Ma il suo programma non era certo quello di dormire da Antonio. Entro la notte a detta sua sarebbe dovuta tornare a rapallo da Bruno Indovino. La prima cosa che fa Caterini quando lei, Alessandro e Antonio entrano nell'appartamento di Antonio è prendere un piatto e fare di nuovo uso della sostanza. Caterini poi prende Alessandro, lo mette sul divano, cerca di farlo addormentare. A questo punto i due, nella stessa stanza, mentre un bambino di 9 mesi sta dormendo sul divano, fanno un uso smodato di Coca-Cola e fumano un sacco. E non intendo sigarette. Poi Caterini si sdraia ad un certo punto sul letto accanto ad Antonio. Ma a detta sua torna subito ad Alessandro perché si sente malinconica, vuole stringerlo e ha voglia di piangere un po'. Antonio invece dice che Caterini si è alzata col fine di fare una telefonata per contattare un altro corriere e ottenere altra sostanza. Caterini dunque esce per prendere la sostanza e sta via per un'ora e mezza. Da mezzanotte 04 a lune 36. Appena rientra a casa chiede ad Antonio se va tutto bene e l'uomo la rassicura. Alessandro non si è mai svegliato. Sono a questo punto le due del mattino quando Antonio lascia l'appartamento e scende per recuperare due pacchetti di sigarette. Ci mette circa 5 minuti, scende alle 2 e per le 2.05 e di nuovo in casa. A questo punto nessuno dei due si allontana fino alle 10.25 del mattino. Il decesso del piccolo si è certamente verificato in un arco temporale che va da mezzanotte e mezza alle 2.30 del 16 marzo 2010. La morte del piccolo, ha stabilito il medico legale, è stata causata da un trauma cranico. La testa del bambino era stata sbattuta per due volte su una superficie piana e rigida come un muro, una parete o il pavimento. Né Antonio né Caterini ammettono di aver notato le condizioni del piccolo. Hanno di base continuato a fumare per riuscire a rilassarsi e a dormire. E in effetti ciò che succede, si addormentano entrambi. L'indomani mattina Antonio si sveglia e riceve un messaggio da una sua collega di lavoro. E lei chiede per l'appunto di raggiungerla. Lui le risponde, ok dammi mezz'ora e arrivo. Poi Antonio si dirige verso il divano dove sta Alessandro. Si rende conto delle sue condizioni. Va dunque in bagno e chiama un suo amico di nome Maroni. E gli dice immediatamente, ascolta questa deve aver fatto un casino con suo figlio. Il bambino è freddo e rigido e devono entrambi sparire da casa mia. Maroni ribatte, ma come? E la madre? Antonio risponde, ah io non lo so cosa sia successo, dormivo. Maroni ribatte, non ti posso aiutare, è un gran casino, è troppo grosso per me. Antonio risponde, e figurati per me. Maroni a questo punto dice ad Antonio di portare Alessandro in ospedale, di fare qualcosa. Antonio risponde anche in maniera abbastanza cruda. Forse non hai capito, il bambino è freddo e rigido, non c'è più, è andato. Maroni a questo punto gli dice, Antonio non so che dirti. E Antonio in effetti non sa che fare. Esce dall'appartamento e scende le scale. La sua intenzione è quella di chiamare i carabinieri. Ma proprio in quel momento riceve una chiamata di lavoro. È orribile da dire? È orrendo? Lo so. Ma quell'uomo dice a processo che è andato a lavoro lasciando in casa Caterini che dormiva russando sonoramente, ha detto a sua, con suo figlio nell'altra stanza, sul divano. Quando rientra in casa Antonio si rende conto che Caterini a questo punto non russa più, però è sempre a letto. Quindi Antonio la sveglia e le dice subito, vai a vedere cosa è successo ad Alessandro. La donna ancora prima di arrivare al divano chiede ad Antonio, che cazzo hai fatto ad Alessandro? Antonio la guarda e risponde, che cazzo è successo ad Alessandro? Quando Antonio riferisce che Caterini, prima di raggiungere suo figlio, gli avrebbe detto che cazzo hai fatto al bambino, ci fa intuire che forse qualcosa era successo in precedenza. Dunque Caterini aveva ragione di chiedergli che cosa avesse fatto al bambino. Inoltre Antonio in questo caso risponde ad una domanda con un'altra domanda. E questo è un modo per non rispondere. Caterini sostiene che prendendo in braccio Alessandro nota delle macchie rosse sulla fronte. Ha le labbra viola, quindi chiede nuovamente ad Antonio, che cosa hai fatto? Che cosa è successo? Antonio risponde, no beh ma io non ho fatto niente, ma ho dimenticato di chiudere la porta d'entrata. Stanotte deve essere entrato qualcuno. Antonio sostiene di non centrare nulla, si è svegliato e ha trovato già Alessandro in quelle condizioni. Di una cosa però è certo. Lui la porta d'entrata l'aveva chiusa e come? E non ha mai detto a Caterini di essersi dimenticato di chiudere la porta d'entrata. Caterini a questo punto dice di aver provato a muovere Alessandro. È chiaro che non accetti che sia morto. È come se sia in totale negazione, nonostante le condizioni di Alessandro siano evidenti. Quindi dice immediatamente ad Antonio, dai muoviti, vestiti, preparati che lo portiamo al pronto soccorso. O, ancora meglio, chiama un'ambulanza. Antonio ribatte, Caterini non serve chiamare l'ambulanza, l'ospedale è qui dietro, lo portiamo noi in macchina. Io ho un dubbio su tutta questa ricostruzione però. Caterini in questo momento sa che suo figlio sta molto male ed è consapevole di non avere nessuna colpa, lei non ha fatto nulla. Quella notte in casa c'erano solo lei e Antonio perché la scusa del Eeeh, ho scordato la porta aperta e forse è entrato qualcuno, non regge manco per mezzo minuto. Inoltre, riflettendoci bene, chi è il ladro che entra in casa? Fa del male ad un bambino senza farsi sentire per poi andarsene quattuquattu senza rubare niente. Dubito che esistano ladri di tal tipo. Comunque Caterini e Antonio portano Alessandro in ospedale. Durante il tragitto la donna piange, si dispera. Mentre invece Antonio le chiede se per caso può evitare di dire che il fatto è avvenuto in casa sua. Caterini ovviamente si rifiuta di dire una bugia. Ma Antonio pensa anche alle condizioni in cui si trova a casa sua. È in disordine, è sporca ed è piena di tracce di Coca-Cola. Caterini dunque dice ad Antonio tranquillo, mi prendo io tutte le responsabilità. Dirò che mi è caduto mentre stavamo giocando. In realtà Caterini appena entra in ospedale dà immediatamente la colpa ad Antonio. La frase che ripete più spesso è Ecco, io non glielo dovevo lasciare, lo sapevo. Un'infermiera chiede alla donna a che cosa si stia riferendo. E Caterini spiega che durante la notte si era allontanata. Non sapeva assolutamente cosa potesse essere successo. In quanto il bambino l'ha lasciato a casa di Antonio. E questa situazione si era già ripetuta circa 15 giorni prima. Caterini infatti aveva lasciato anche durante quel giorno il bambino con Antonio. E anche in quell'occasione era avvenuto un incidente. Il bambino, a quanto dice la donna, era caduto accidentalmente dal tavolo. Ha una domanda. Perché Antonio aveva messo il bambino su un tavolo? Doveva cambiarlo? Caterini dice all'infermiera che il bambino, ogni volta che si trovava in presenza di Antonio, manifestava disagio, piangeva, si agitava. L'infermiera dunque dice a Caterini, ma perché glielo ha lasciato se sapeva che la situazione era questa? Caterini alza le spalle, dà una risposta molto vaga. Lascia intendere che non avrebbe potuto fare diversamente. Il pubblico ministero a questo punto porta un dato che lega Antonio al momento della morte di Alessandro. Infatti sul piedino del piccolo, se ben ricordate, c'era il segno di un morso da cui viene estratto del DNA. E quel DNA appartiene proprio ad Antonio Rasero. La difesa sottopone alla corte un sms che ha inviato Caterini a Bruno Indovino, l'uomo con la quale la donna ha una relazione. Questo sms viene inviato alle 2.18 quando o Alessandro è già morto o è vicinissimo alla morte. Il testo recita Sei un egoista del cazzo, non mi capisci mai, non voglio svegliare Ale e non me la sento di guidare. Sto male, sono abbracciata ad Ale sul divano per i cavoli miei che piango da un'ora. Ti amo e me ne sto rendendo conto in sti giorni, ma non me ne frega un cazzo di nessun altro. Ti prego, aspettami. Ho bisogno di riposarmi, ti giuro che questo manco lo cago. Ma è mai possibile che questo fatto sia avvenuto davvero? È molto improbabile, una madre che sta sdraiata accanto al suo bambino lo accarezza e non si rende conto che è senza vita. E infatti Caterini dice di aver detto una bugia a Bruno, insomma gli ha mandato quel messaggio per tranquillizzarlo, per fargli capire che non stava andando con Antonio e che non lo stava tradendo. Ok, ma il bambino? Perché Caterini non parla della condizione del bambino? Aveva paura? Sapeva che tanto Bruno non avrebbe potuto fare nulla? Perché non era in possesso di un mezzo per spostarsi? Alle 2.23 Caterini manda un ennesimo messaggio a Bruno Indovino, scrivendo Il PM sostiene che il giuramento di una donna sul proprio figlio è difficilmente conciliabile con la precedente commissione di atti così violenti quali quelli che ha subito il piccolo. Il PM chiede per Antonio Rasero la pena dell'ergastolo. L'uomo viene condannato a 26 anni di reclusione. La corte d'assise di primo grado di Genova condanna Antonio per l'omicidio del piccolo Alessandro, ma ordina che Caterini venga processata per concorso in omicidio e abbandono di minore. Contro questa sentenza accusa e difesa fanno appello. Il 18 febbraio del 2012 la corte d'assise d'appello di Genova assolve Antonio per non aver commesso il fatto. Antonio viene assolto perché non si era raggiunta la prova certa che l'imputato avesse commesso il crimine. Potrebbe aver assistito solo alla dipartita del piccolo Alessandro per mano di sua madre Caterini. Contro questa sentenza si è ricorso in Cassazione ed è proprio la Cassazione che rigetta la sentenza e chiede che venga celebrato un altro processo. Adesso si rincomincia da capo. Una settimana dopo la sentenza della Cassazione, la corte d'assise di Genova assolve Caterini per l'omicidio di suo figlio e la condanna a 4 anni di reclusione per abbandono di minore. Viene ritenuta quindi certa la tesi del pubblico ministero, che stabilisce che la morte del piccolo è avvenuta mentre Caterini era fuori casa. Un giro per Genova alla spasmodica ricerca della sostanza. Il bambino dunque era solo in casa con Antonio Rasero. Questa è una sentenza inequivocabile perché nessuno ha fatto ricorso in appello. Caterini era agli arresti domiciliari, chiaramente ormai è libera. Ha ripreso la relazione con il padre di Alessandro, Rosario Granvillano, da cui ha avuto una bambina. Dopo questa assoluzione viene celebrato presso la corte di Assise di Milano il secondo processo d'appello contro Antonio Rasero. In questo caso abbiamo davanti a noi quello che la difesa di Antonio chiama mostruosità giuridica. Caterini è stata assolta, quindi ci vuole un bel coraggio ad assolvere anche Antonio. In quanto un fatto così mostruoso rimarrebbe impunito. La difesa fa presente ai giudici di appello, come nel processo di primo grado si sia fatta, una ricostruzione appossimativa sui maltrattamenti subiti dal piccolo. È vero, quella notte è terribile. Antonio ha morso Alessandro sul piedino. Ma le bruciature di sigoretta trovate sul corpo, in particolare quella sulla cresta iliaca, non sono contestuali al momento dell'omicidio. Infatti i segni che appaiano come bruciature sono stati notati da Bruno Indovino un paio di giorni prima del fatto. Rasero Antonio e Matas Caterini non hanno una vera e propria relazione, ma certamente in comune ha una forte dipendenza da Coca-Cola. All'ospedale più di un'infermiera sente Caterini dire Ma cosa ti hanno fatto? Ecco, non glielo dovevo lasciare, riferendosi chiaramente ad Antonio Rasero. Antonio Rasero inoltre ha sempre negato di aver inferto morsi al piedino di Alessandro, ma è stato rilevato il suo DNA, quindi quel morso è senz'altro riferibile a lui. Antonio Rasero quindi ha avuto sicuramente contatto con la vittima in prossimità della morte stessa. C'è anche però un'altra verità. Antonio Rasero ha detto tante cose diverse, ha cambiato tante volte versione dei fatti. Quindi in questo caso il giudice offre ad Antonio la possibilità di raccontare una volta per tutte la sua versione dei fatti. Quella vera però. Vi leggerò dunque le sue parole perché questa è la sua versione definitiva dei fatti. Vi ricordo che la donna era tornata a casa. Ovviamente sappiamo tutti per cosa è uscita. È inutile negarlo. Per l'uso di Coca-Cola. Per cercarne altra. La donna è rientrata a casa. Il bambino era sveglio. Io sono andato a prendere le sigarette perché Caterini non le aveva prese. Sono rientrato. Poi ad un certo punto ho visto la donna. Prima ho sentito un rumore forte. Poi ad un certo punto ho sentito proprio delle urla... Delle urla... Coincitate. E ad un certo punto ho visto la donna. Cioè, prima ho sentito un rumore forte. Poi mi sono... Siccome c'era la parete divisoria, io ero a letto ed ero sdraiato. Ero sdraiato, quindi non potevo... Cioè, non avevo una visuale piena. Ho visto la donna. La seconda volta che stavo tirando sul bambino. Io, in quel momento, è stato coincitato. Ho cominciato ad urlarle Che cazzo fai? Chiamo i carabinieri. Erano anche le due passate. Sono andato verso la donna. Ma ad un certo punto la donna è venuta verso di me. È stato un momento coincitato. Ha preso, mi ha allontanato, mi ha spinto. E a quel punto lì io ho detto Basta! E la donna si è rimesa sul divano con Alessandro fino a che io non mi sono rimesso sul letto. E mi sono assopito. Io quella mattina tornavo da Monte Carlo. Ero partito alle sei e mezzo del mattino. Ero andato a Monte Carlo. Poi a Genova. Poi a Portofino. E poi sono tornato indietro. Quando mi sono reso conto di Alessandro che ho aperto le persone al mattino mi sono reso conto dello stato di quel bambino. Era pacificamente morto. Io, come ho visto il bambino con la testa rivolta verso l'interno del divano ho notato che aveva da una parte la testa rossa dall'altra parte la testa nera. Io in quel momento non ci ho capito più nulla. Avevo comunque un bambino senza vita in casa. E la madre dormiva. Io, non sapendo cosa fare si chiamare i soccorsi e mi sono detto ho casa che è tutta un macello. A quel punto lì, cosa ho fatto? Sono andata a svegliare la madre di Alessandro. La donna quindi si sveglia guarda il bambino e inizia a dire Ah, l'è morto! Ah, l'è morto! Quindi decido di portare ai gaslini la donna con Alessandro. Io gli ho detto assumiti le tue responsabilità. E pensavo che lei comunque si prendesse le sue responsabilità. Io, quello che vorrei dire solo ed esclusivamente in modo molto chiaro è che questo processo e soprattutto la morte di un bambino lo scenario in cui mi sono andata a trovare per me è una vergogna perché io sono padre e mai avrei dovuto assumere della sostanza in presenza di un bambino. Io non avrei avuto nessun motivo di fare del male al bambino. Io, quello che voglio dire è che sono innocente e lo dirò sempre presidente. Io, quella che sarà la vostra scelta non la so ma io sono innocente. Antonio inizia a raccontare la sua versione dicendo mi ricordo. Questo ci rivela che in precedenza Antonio ha riferito delle informazioni che non facevano parte dei suoi ricordi. A distanza di anni dai fatti durante l'appello bis Antonio chiama la madre di Alessandro come la donna o la madre. Non pronuncia più quindi il suo nome e il suo cognome come aveva fatto nel processo di primo grado per prenderne le distanze. Antonio inoltre continua a riferire della polverina era lei che era riuscita a cercarla. L'intento di Antonio secondo l'accusa è quello di mettere in cattiva luce Caterini. Antonio inoltre dice il bambino era pacificamente morto. Pacificamente pare sia riferito allo stato del bambino in quanto Antonio non ha detto la frase era pacifico che il bambino fosse morto che ha ben altro significato ma queste due parole pacificamente a fianco a morto stridono parecchio. Perché Antonio ha usato la parola pacificamente? Forse si riferiva allo stato del bambino? Nella mente dell'uomo per caso è vivo il ricordo dello stato d'agitazione del bambino che ha preceduto l'aggressione? Ad un certo punto Antonio parla al presente e dice la donna si sveglia guarda il bambino e dice l'è morto l'è morto quindi andiamo al gaslini. I tempi verbali utilizzati da un soggetto invitato a rievocare un ricordo sono molto importanti. infatti se sono al presente sono da considerarsi non credibili. Chi dice il falso parla spesso al presente in quanto parla di fatti che non ha vissuto dunque Antonio non ha negato in modo credibile di non aver colpito Alessandro nel tentativo di manipolare i suoi interlocutori ha riferito di provare vergogna per il male minore ossia il consumo della sostanza in presenza di un bambino sostiene più volte di non aver avuto alcun motivo per fare del male a un bambino ha affermato inoltre di essere innocente ma affermare di essere innocente non sempre equivale a negare l'azione omicidiaria infine ha preso in considerazione la possibilità di essere condannato lasciando intendere di essere pronto ad accettare questa eventuale condanna sempre durante l'appello bis Antonio rilascia queste dichiarazioni spontanee questa è l'ultima occasione che avrò di parlare davanti a dei giudici e per quanto quella sera non fossi stato lucido non mi sono mai rimbecillito scusate il termine fino a far del male a qualcuno specialmente ad un bambino ho accompagnato Catarina ben coscia che il bambino fosse deceduto in ospedale sono tornato a casa e durante il viaggio Catarina mi aveva rassicurato dicendo che si sarebbe assunta le sue responsabilità quello che voglio dire è che una situazione così drammatica per tutto finché avrò un filo di voce io ribadirò che sono innocente non avrei avuto alcun motivo per fare del male ad un bambino di 9 mesi in questo caso Antonio minimizza un po' perché al posto di dire uccidere un bambino dice fare del male ad un bambino e ahimè questo è un classico degli responsabili di un omicidio ha fatto riferimento a un generico bambino non alla vittima ha tentato nuovamente di manipolare i suoi interlocutori con la storia sua elfa del ma io non avrei avuto alcun motivo per fare del male ad un bambino ripete infine Caterina mi aveva assicurato che ovviamente si sarebbe assunta le sue responsabilità cerca di spingere i suoi interlocutori a concludere ciò che lui è incapace di affermare ovvero ha cercato di far credere che fosse stata Caterini a colpire suo figlio altrimenti perché non ha riferito con esattezza quali sarebbero le responsabilità di questa donna quando dice lui non ha visto niente ha solo sentito dei tonfi poi sostiene di aver visto Caterini prendere il bambino da terra ma dice la verità oppure mente a quanto pare la corte è convinta che menta perché ad Antonio viene confermata la sentenza di primo grado a 26 anni di reclusione ora io vorrei dire una cosa Rasero a mio avviso è colpevole però è pur vero che in quella notte in quella casa erano in due ed erano impizzati totalmente impizzati entrambi quindi che se ne dica Alessandro o è venuto a mancare per mano di Antonio o è venuto a mancare per mano di Caterini Caterini nel 2009 in carcere scrive due lettere una alla sua migliore amica o a una sua amica e un'altra al padre biologico di Alessandro la prima è scritta per una sua amica e dice mi tormento perché non l'avevo capito prima non mi ero accorta che quell'uomo voleva fargli del male mi sono fidata ingenuamente ho sbagliato a credergli già quel giorno che sono arrivata da te incazzata nera perché gli aveva fatto del male raccontandomi che era caduto dal tavolo al padre di Alessandro Rosario Granvillano scrive non dovrei giustificarmi con te sei l'ultima persona con cui dovrei farlo la prima però con cui mi sento di giustificarmi perché eri il suo papà sai quanto lo adoravo sono andata contro tutti per metterlo al mondo la vera assassina è quella merda e si riferisce alla sostanza quell'uomo ha ucciso il mio bimbo ma la vera assassina è quella merda ti avevo avvisato se tu mi lasci andare ci ricado mi hai lasciato andare non si girano mai le spalle ricordatelo non avevi calcolato che Ale un giorno non ci sarebbe stato più ora Caterini qua mi sembra anche un pochino passivo aggressiva ma a parte ciò è evidente da queste lettere che non sia colpevole anzi in colpa a se stessa per aver lasciato Alessandro nelle mani di un uomo che gli ha fatto del male ricordando che già una volta era capitata una cosa simile un incidente comunque questo caso è davvero davvero intricato in realtà perché ci sono tanti gradi di giudizio e la storia è davvero tremenda chiaro perché a perdere la vita come al solito è un piccolino innocente che non ha fatto niente di male però credo che proteggere tuo figlio sia una priorità sempre posso capire però che ahimè le dipendenze quando si mettono in mezzo non sono assolutamente facili da gestire detto questo io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se per caso conoscevate questo caso fatemi sapere che cosa ne pensate io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi